In ogni chef è un artista, perché quello che compone, metterlo nel piatto, è un'arte che uno fa. Mi chiamo Carmine Spovito, sono italiano, sono il chef esecutivo dell'hotel Casa Medina di Forse. Il segreto per essere un chef, prima di tutto, è l'amore per la cucina, l'amore per l'ingrediente, per il prodotto. L'ingrediente che non può faltare nella mia ricetta è il pomodoro, è un prodotto che ci piace, lo mettiamo nella bruschetta, lo mettiamo nella pizza. Quando io creo un piatto, immagino sempre prima di fare il piatto, come la persona lascia il ristorante, deve lasciarlo sorridente, felice. Si dice wow, per me e anche a me. L'importante è che dà un'esperienza molto felice, felice di quella che ha mangiato e soddisfatto.